E dopo che non facciamo un video commentare, direttamente live, cosa sto dicendo, mi sono tutti impappinato, simile a quello che vi sto per far vedere su Rainbow Six, perché? Perché non è effettivamente così semplice fare un video live su questo gioco, a meno che tu ti chiami Serenity, Sergio o me CJ, ma quelli penso che siano tre persone uniche al mondo. E nulla, ora vi faccio vedere perché ci metto effettivamente un sacco di tempo a farvi un bel video, un montaggio, cazzi mazzi e intrallazzi. Non è facile giocare a questo gioco perché è pieno di problemi, è della Ubisoft, quindi sono francesi di merda che non sanno fare un cazzo, perché abbiano creato un gioco competitivo, io non ne ho idea. Se per questo non so neanche perché si trovi nell'esl, però va bene, ok, incominciamo con una libera tanto per riscaldarci. Ottimo, è una partita già cominciata, quanto vedo? Round 3, penso che stiamo perdendo, 2-0, penso eh, vediamo, vediamo, penso proprio di sì. No, 1-1, devo dire, un punteggio mediocre. Vi hanno rubato Frost, Jäger, proviamola con Jäger, però voglio provarlo con l'olografico, che mi devo un attimino abituare, con l'Hakog non riesco più a trovarmi bene come una volta. Dovete proteggere l'ostaggio, rinforzate l'attacco. È una libera, quindi, oh, ostaggio, anche se ho selezionato dal mio boom, è benissimo. Una cosa che è molto fastidiosa in questo gioco è il match-making, cioè il tutto spazzinato. A volte non ti trovi a guardare, 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 quando uno di tuoi compagni nece e poi rientra, non gli rientra. Non gli rientra, non ce la devi mezzo, non gli rientra. In classificata, non far entrare i compagni di squadra è una cosa parecchio grave. E un altro, appunto, è anche se tu selezioni, no, certi, certi debiti di partite, te li mette lo stesso. Posizione l'ostaggio compromessa, tenetevi pronti, siamo a cinque secondi. Soro, mamma. Ora fatemi andare a romare, perché se nemmeno... Grazie mille, hanno trovato l'ostaggio. Vorrei provare a fare un buchino e provare a vedere se c'è qualcuno di Ra. Ma, con quest'arma, non ho neanche il C4, il pompa. Di solito si fa un buco qua e si controllano le bombe di sopra, in camera dei bambini. Con un C4 riuscirei anche a vedere qua. La vedo, ma non troppo bene. Tanto se è lì. No, è da un minuto. Non capisco. Squadra d'attacco eliminata. Era giusto, arrivava da lì. Bella. Ah, la mappa nuova. Artificieri, quindi giochi in casa. Attacchiamo. Cerchiamo di raccattarci Giacal subito. Cazzo. Andate, mi esce. Senza Akog, cortesemente che inizio a trovarmi ci parecchio male. Qui, di tattiche, non ne ho ancora tantissime. Io faccio la vecchia maniera su questa mappa, anche perché non la conosco benissimo. Vecchia maniera sarebbe entrare e... E basta. Non c'è una breccia di linea, frattempo, uno pusha dietro. No, io qua entro. Prima zona libra, vado con Giacal di solito. Mi butto sul balconcino che c'è in mezzo. Cerco di entrare, guardo un attimino se ci sono passi. Attenzione, il drone è alleato, ha trovato una bomba. Cerco di ripulire la zona. Sponky, qui ce ne sono parecchi. Molto, anzi. Molto per avere che mi ammazzino, invece. Non posso sfondare, no problem. Ci pensa lui. Non so cosa fare, effettivamente. Non so se... Ci dovrebbe stare Blackbeard a pushare da qui. Ma Blackbeard è un attimino occupato. Quella cam lì l'abbiamo fatta. Sì. Nice, ce n'è uno di sotto. Leva. Cavolo, qua si è aperto. Andiamo subito un drone e poi pushiamo immediatamente. Qui c'è uno scudo con dietro... Muoio ora. Non è piaciuto quello, eh, Bandit. Via. Easy win. F*** off. Si, io faccio così in questa mappa. Questa mi è piaciuta. Ok, come al solito si fa sempre una shortcut sulle due bombe. Così che diventi comodo spostarsi da un all'altra. Con i droni lo faccio sempre cagare. Cerchiamo di mettere... Guarda qua! Sbarro la porta! Vediamo perché... Aspetta, cavolo. Ancora dieci secondi. Non so, non avevano le minette rinforze. La squadra d'attacco ha trovato una bomba. Ho perso il filo di discorso. Non so che sto dicendo, a parte dei cheater. Se ne trovano ancora parecchi e... Non so se i bann funzionano o... Stronzo, merda. L'ha messo proprio dove va a toccare. Io qua non posso far altro che mettermi qui. E cercare qualche stronzo. Non è mica dei nostri, cazzo. Ho picchiato uno, ma dov'è? Sopra. Due sopra. C'è il top, guys. Ciao, bella testolina. Wow, lag! Non vorrei crashare ora. Sesso riattivato. Non voglio più sporgermi da quella finestra, se è possibile. Mi è andata bene una volta, ma non so se posso andare bene anche la seconda. Quello che mi spaventa ora è il quadro. Non c'è nessuno che copre. Merda. Mi sento correre. Non ho problemi. Merda. Eh, però t'ho colpito, eh. E mica poco. Cazzo. Vediamo? Boh, vabbè. Va bene. Ecco, io qua faccio così, lascio la bomba, e comunque sono un romer, e i romer gli devono assolutamente come la bomba. Analizziamo un pochino la situazione qua. Sento casino di lui. Tra l'altro mi droppo. Sempre shift. Devo dire alt. Facciamo un po' casino. Fuori uno. Ok. Posso anche togliere, tanto qua di passi non ce n'erano. Non ce n'è uno. Minch'avevo vista. Quindi qui sotto c'è di sicuro una coppola. Ricarica. Ah, dopo il titolo, eh. Ricarica. Hai trovato una bomba. No. Ma dai, l'ho confuso con le bottiglie. E con i fazzoletti. Affanso. I sensori neutrali bruttissimi. E la shortcut, anche se sarebbe un bene farmi due. Occhio, la posizione di una bomba è compromessa. Io vorrei mettere un altro muro qua. Ho piattato il dispositivo. Ma è stronzata quella. Il positivo ha piattato. Rimangono 10 secondi. Fatelo, vincone, però, raga. Non è che lo sto per guardare. Mancano 5 secondi. Vai. Qua te lo ha trovato la bomba. Qui. Vado, da qua. Non è che lo sto per guardare, non è che lo sto per guardare, non è che lo sto per guardare. Uso il sensore cardiaco. Ricarica. Sensore cardiaco in uso. Ricarica. Bravo. Mi rimangono 2. E uno è qua. Addio. Merda. L'ultimo nemico rimatto. Racciono 15 secondi. Il difensione ha eliminato tutti i nemici. Eh, Jäger, dovevi sbrigarti. C'è poco da sparare. Eh, il Vector è tanta roba. Magari ve lo faccio vedere nel prossimo round. Aris Cluxy, primo. Aris Cluxy. La squadra d'attacco ha trovato una bomba. Proteggetela. Ricarico. Rinforzo, movimento, porto. Mancano 10 secondi. Pertà, Jäger non c'è più dietro di Jäger. Puntano. Ricarico. Sei in una zona controllata dal nemico. Lasciala sotto. La tua posizione è stata compromessa. On the right, you. La squadra d'attacco ha attivato un disinnescatore. Va distrutto. Sì, ma vieni? Il nemico si scoprirà se rimani in questa zona. Ti hanno scoperto. Torna il suo caricatore. Ultimo nemico rimasto. Disinnescatore trovato. Proteggete le bombe. Disattivate il disinnescatore. Andate. A. Chagare. Brutti stronzi. Così si gioca. Missione compiuta. Eh, usce di merda. Ma cosa volevi fare? Buffona. Andiamo a dare un'occhiata, dai. Bottole qua. No. E' anche una botola qua. Che schifo di bratezza. Non è pronto. E' proprio schifo, eh, che fanno. Ah, sgamata. Goal. Alla larga. Drone pronto. E' un'occhiata. E' un'occhiata. Dall'esplosione. Abbiamo il vizio Nuovo caricatore Rimane un nemico Cosa ho fatto ragazzi Cosa ho fatto Cosa ho fatto Tutti zitti Tutti zitti È così che si usa Esce Tutti zitti Zitti tutti quanti Va bene ragazzi Io penso che per oggi Possa bastare Stranamente Io di bug glitch O cazzate simile Anche che citer Non ne ho visti Meglio per i vostri occhi E per le vostre orecchie Se no scendeva giù Il padre eterno A chiedermi cortesemente Di smetterla Perché gli stavo Leggermente Spracassando i coglioni Ci vediamo Al prossimo video Sperando che Ci sia Un prossimo video Effettivamente Perché come è Sempre un dubbio Lo sapete Ciao 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 Ciao